Bene ragazzi, sono BenWolfers e sono tornate alle mini recensioni. Oggi parleremo di Seeds of Resilience. Il titolo del giorno è un gestionare a turni che ci porrà la guida di un gruppo di naufraghi. Riusciremo a salvare la pelle abbandonando l'isola o cederemo alle insidie della natura? Lo scopriremo solo craftando. La struttura alla base di Seeds of Resilience è infatti piuttosto semplice. Avremo a disposizione un'isola ricca di risorse grezze da sfruttare tramite il consueto meccanismo di gathering e crafting, tenendo parallelamente sempre sotto controllo le esigenze dei naufraghi. Ogni turno di gioco corrisponde ad un giorno trascorso sull'isola. Ogni naufrago avrà a disposizione un numero di ore d'azione strettamente legato al benessere provato al cambio di turno. Se lo avremo nutrito, se avrà dormito al riparo e se avremo rispettato alcune condizioni, avremo a disposizione un buon numero di ore da sfruttare nell'arco della giornata. Ottimizzare l'ora a disposizione di ciascun naufrago sarà la chiave della nostra sopravvivenza, poiché ogni azione avrà un suo costo in ore. Pescare un pesce richiederà due ore. Abbattere un albero richiederà cinque ore. Costruire una capanna richiederà nove ore. Insomma, ogni progresso avrà un costo. E nel pianificare le prossime azioni dovremo sempre investire un numero di ore per assicurarci che la scorta di cibo sia sufficiente per sfamare i naufraghi e che ognuno passi la notte sotto un tetto. Prima ho anche parlato di alcune condizioni da soddisfare, perché ogni naufrago è dotato di un proprio carattere ed attitudine. Ci sarà chi imparerà velocemente a pescare e che non riesce a dormire bene in compagnia di altre persone, quindi nel pianificare lo sviluppo dell'isola dovremo sempre avere bene a mente queste condizioni per velocizzare l'apprendimento di alcune abilità o per evitare di perdere ore d'azione a causa di errati calcoli. Lo sviluppo dell'abilità sarà altrettanto fondamentale. Ogni azione permette l'accumulo di punti XP e specializzarsi in una specifica abilità può sbloccare nuove possibilità di crafting o magari dimezzare il tempo necessario per svolgerla. Sits of Resilience offre una grafica isometrica piuttosto semplice, sebbene un filo confusionaria anche se ben adatta al contesto. Il comparto sonoro si limita al compitino, lo fa adeguatamente e raggiunge certamente la sufficienza pur senza brillare. Il gameplay proposto è in linea con il titolo, semplice e funzionale e che riesce certamente a catturare gli appassionati dei gestionali. Ottimo lo scorno delle stagioni, che andrà inevitabilmente a variare le risorse presenti sull'isola, buona la possibilità di terraformarla ed i saltuali disastri naturali metteranno quel pizzico di pepe che non guasta mai. Di negativo occorre invece segnalare un certo abbandono del player. Capiterà spesso di non avere ben chiaro in mente come ottenere una specifica risorsa o come procedere nello sviluppo dell'isola. Il tutorial, presente sotto forma di missioni, prenderà per male il giocatore solo per un limitato periodo di tempo e fondamentalmente sarà utile per sbloccare nuovi naufraghi e nulla più. Da rivedere anche il posizionamento di alcune schermate dell'interfaccia, si ha sempre l'impressione che occorrano troppi click per accedere a ciò che si è in mente. Seeds of Resilience è un titolo particolare, semplice ma divertente nonostante qualche sbavatura qui e lì. Sviluppato dalla Sattel Games e proposto su Steam a 13,99€, mi sento di consigliare questo gioco a qualsiasi appassionato del genere alla ricerca di qualcosa di diverso. Non vi rimane altro da dire su questo titolo. Spero che il video vi sia piaciuto e se così lasciate un like, commentate e condividete ma soprattutto iscrivetevi per non perdervi la prossima mini recensione. Ci vediamo tra una settimana, ciao!